ben ritrovati all'appuntamento salva un amico siamo al parco canile empa di monza in compagnia di stefania e di enzo paolo chissà come mai quel suo nome esatto lui è una frangetta che è tutto un programma diciamo così e niente è un cane probabilmente con più componenti di razza al suo interno quindi è un po pastore un po anche cane da caccia e chissà che altro insomma e qual è la sua storia ha quasi quattro anni è arrivato da noi per una cessione di proprietà adesso magari non si direbbe perché incredibilmente è bravissimo però diciamo che è un cane con cui abbiamo dovuto lavorare parecchio perché al suo ingresso aveva qualche qualche problemino in parte risolto andrà avanti il lavoro noi lo facciamo tutti i giorni con lui però adesso è diventato molto più gestibile qual è la famiglia ideale per lui a queste caratteristiche diciamo che allora lui sarebbe un cane adatto principalmente a famiglie magari con ragazzini ma non con bambini troppo piccoli perché lui ha bisogno un po di tempo per fidarsi diciamo quindi magari qualcuno che può toccarlo in modo irruento lo può spaventare insomma nei confronti degli altri animali non va d'accordo coi gatti perché attende un po inseguirli e dei cani ha molta paura quindi stiamo cercando di inserirlo un pochino alla volta con con dei cani diciamo carini poco irruenti bene e per esigenze alimentari particolari ne ha oppure mangia un po di tutto io visto che ha un mangione esatto mangerebbe pure la ciotola quindi queste questa sua caratteristica la stiamo sfruttando insomma nel lavoro perché lui è molto molto motivato dal cibo non ha allergie particolari qua mangia due volte al giorno principalmente crocchette con qualche extra quando lavoriamo benissimo vaccinazioni e quant'altro è a posto come sempre voi potete tutte le informazioni sia al suo libretto sanitario è già stato sterilizzato è già stato vaccinato quindi sembra essere in buona salute perfetto allora speriamo che enzo paolo possa presto trovare una casa per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il parco canile empa di monza al numero 039 835 623 oppure inviare una mail a canile chiocciola empa monza punto it